Sì, è importante, sapevamo che era un recupero contro la Juve, perché purtroppo è andata non come speravamo, testa subito alla Roma, quando eravamo in ritiro il martedì sera abbiamo dato anche un'occhiata alla loro partita e devo dire che erano veramente forti, ma noi ce ne metteremo tutte. Sì, è uno dei miei pregi, ho detto già in questa stagione, io cerco sempre di mettermi a disposizione, quando vengo chiamato in causa dal mista, nel senso di mi mettermi nella formazione titolare, io cerco sempre di dare il massimo, di dare la mia prestazione, di dar tutto, poi magari i risultati non arrivano, però l'importante è mettercela tutta con impegno. Ma certo, sembra una cosa banale, loro sono grandi squadre, hanno grandi campioni, a maggior ragione noi dobbiamo sbagliare proprio niente, perché come abbiamo visto con la Juve, se sbagli in mezza virgola ti puniscono, poi a recuperare fai un po' più di fatica. Ripeto, con la Juve magari abbiamo tenuto un'ora, poi siamo un po' sfaldati, ma adesso la Roma sappiamo che è una grande squadra, ha fatto una grande vittoria, viene da un entusiasmo e sicuramente viene qua per far punti. Noi, anche con l'aiuto del nostro pubblico, abbiamo visto mercoledì, cerchiamo di mettere in difficoltà e di portare a casa punti noi. Noi ce la mettiamo tutta, ecco, con la Juve abbiamo dimostrato che un'ora abbiamo tenuto, magari dobbiamo essere più sfruttati, più magari offenderti, con quella mezza occasione che ti capita dobbiamo fare gol, ecco, perché sappiamo contro queste grandi squadre quando te ne capitano una partita, magari due, tre, non lo so, dipende, appunto per questo dobbiamo sfruttarle al massimo e queste poche occasioni ci capitano. Ma sì, 12 e mezza non è un orario bellissimo per noi, però fa parte del nostro mestiere e ci si adegua, ecco. Grazie.